Il Polo dell'Infanzia Clara Maffei di Clusone è pronto ad aprire le proprie porte con l'Open Day sabato 20 gennaio. Siamo con Mario Parini, da poco Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Clara Maffei. Parliamo anzitutto del vostro Polo dell'Infanzia. Sì, noi ci siamo insediati a settembre dello scorso anno. Siamo cinque componenti del Consiglio d'Amministrazione, tutti volontari, e questa è una peculiarità, una struttura che ci viene invidiata da tutta la provincia. Il Polo dell'Infanzia ha assunto questo nome l'anno scorso proprio per identificare quello che sta facendo. Nella sostanza servizi educativi per bimbi di età da 0-6 anni. Quindi il nido, la primavera e la scuola dell'infanzia propriamente detta. C'è uno staff e un gruppo di persone veramente impegnate, professionali e sempre sul pezzo. Noi crediamo molto nella continuità educativa e quindi questa è la nostra mission a favore dei bimbi della nostra comunità e non soltanto, e anche delle famiglie. Tanto è vero che un anno fa circa, anzi qualcosa di più, abbiamo ingrandito anche il nido in funzione delle richieste che il territorio ci esprimeva quotidianamente. Abbiamo portato i posti da 21 e 28 e stiamo vedendo proprio in questi giorni che le richieste che stanno arrivando sono ancora copiose e quindi sicuramente avremo anche una lista d'attesa. Siamo con la coordinatrice Milena Pezzoli, anzitutto ricordiamo quando si svolgerà l'Open Day. L'Open Day della Fondazione Clara Maffei si svolgerà sabato 20 gennaio dalle ore 9 alle ore 13. Per tutte le famiglie che fossero interessate a prenotarsi, accedendo sul sito della nostra fondazione, la Fondazione Clara Maffei, trovate l'apposito bottoncino, cliccando potete prenotare scegliendo l'orario che preferite. Abbiamo deciso di dividere i genitori in fasce orarie, quindi circa ogni mezz'ora entreranno gruppi di genitori differenti, in modo da dare a tutti la possibilità di vivere a pieno l'esperienza di quello che sarà il nostro Open Day. L'Open Day è il modo migliore che abbiamo per presentare la nostra struttura a tutte le famiglie che fossero interessate ad accedere ai nostri servizi. Il motivo per cui abbiamo scelto di dividere in fasce orarie è proprio per dare la massima attenzione e la massima spiegazione a tutti i genitori, in modo da poter rispondere a pieno alle loro richieste e alle loro curiosità. In questo Open Day presenteremo quindi tutti i nostri servizi, partendo dal servizio per i più piccolini, quello del nido, quindi per i bambini che vanno dagli 0 ai 2 anni. Presenteremo poi la sezione primavera per i bambini dai 2 ai 3 anni, la scuola dell'infanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni e tutti i servizi accessori, come per esempio quello del giochiamo naturalmente, che è uno spazio di compresenza per adulto e bambino che svolgiamo in open air, quindi all'aperto, attivando un po' quelle che sono le modalità dell'autodora education. E in questo servizio partecipano i bambini in compresenza con i loro adulti di riferimento. Vi aspettiamo numerosi, prenotatevi, come vi diceva giustamente il nostro Presidente, le richieste sono già altissime, posti ne abbiamo e la voglia di fare bene e fare benissimo per i vostri bambini ce n'è tanta. Stiamo davvero mettendo il massimo del nostro impegno, della nostra formazione, proprio per costruire un percorso di senso per i bambini che li accompagni in tutto il loro percorso dagli 0 ai 6 anni. Vi aspettiamo numerosi.